Ilarion, 18-25 marzo 2012. Amatissimi! Proseguendo nella vostra purificazione, state iniziando a provare un senso di padronanza, di maestria, mentre completate l'insegnamento che questi eventi vi hanno dato e riconoscete l'opportunità di grande crescita spirituale e di evoluzione che si sono verificate in voi. La vita è sempre in evoluzione ed in questi tempi la crescita procede a grandi passi. Ogni anima sulla Terra vive i propri cambiamenti interiori con meravigliosa grazia. È stato un grandissimo impegno nuotare controcorrente, contro le strutture stabilite e ben radicate ma tutti voi lo avete portato a termine magnificamente. Non dubitate neanche per un minuto che non ci possa essere nient'altro che amore nei cuori dell'umanità, anche se ciò che vi circonda può farvi pensare il contrario. Quasi ogni cuore umano su questo pianeta è un cuore buono che, attraverso le esperienze di vita, si è chiuso per essere meno vulnerabile alle vicissitudini del vostro mondo dualistico. Questo mondo sta velocemente diventando superfluo e presto non ci sarà più alcuna energia a sostegno di questo vecchio paradigma, quelli attorno a voi incorporeranno una coscienza superiore e dimostreranno la propensione a creare pace, armonia e comprensione fra tutti i popoli. Quando il cuore umano inizierà a volere e ad aspettarsi il miglior risultato ed il massimo bene per sé e per tutti i suoi fratelli e sorelle, allora, questo avanzamento nella consapevolezza accelererà rapidamente profondi cambiamenti in ogni aspetto di vita sulla Terra. Quando ogni persona ama, rispetta ed onora sé stessa e gli altri quale figli divini di Dio, degni di tutto ciò che è bene e giusto, ed è disposta a dimostrarlo in ogni sua azione, pensiero e parola, allora non ci sarà più alcun bisogno di proteggersi dagli altri, perché la gente desidererà solo esprimere ciò che porterà l'altro a comportarsi nella stessa maniera. Questo porterà la pace fra tutti i popoli ed in tutte le nazioni ed incoraggerà molte incredibili innovazioni e soluzioni creative ai più pressanti problemi della Terra. È la scelta personale e libera di ciascuna persona sulla Terra di lavorare insieme che incoraggia il vero cambiamento in ogni aspetto della vita. Diventerà chiaro a tutti, che ciò che una persona fa ha un effetto su tutti, in ogni luogo, e pertanto ci sarà un grandissimo desiderio, in ogni cuore umano, di creare solamente ciò che è positivo, edificante, illuminante e che dà forza. Diventerà comune in tutto il mondo riunirsi per compiere il massimo bene ed inizierà così un movimento a spirale verso le dimensioni superiori di esistenza. Le onde energetiche stanno aumentando ad una velocità stupefacente dando un'impronta ad ogni forma di vita sulla Terra, tutto sta cambiando, tutto si sta trasformando in una nuova realtà benché questo sia disorientante perché entrambe le realtà ora coesistono ma non durerà a lungo. La maggior quantità di luce, che ora arriva viene assimilata ed integrata in ogni essere senziente e questa luce si sta diffondendo in tutte le direzioni, per portare il massimo risultato per il tutto. Continuate, carissimi, nella vostra ricerca della maestria del Sé, quando la raggiungerete essa contribuirà al massimo bene per tutti. sempre attorno a voi avete gli angeli, che vi guidano e vi proteggono. Abbiate fiducia, siete nel posto giusto, nel giusto divino momento e tutto va bene.